Mister, una bella nota positiva da oggi, il Bologna è stato capace di ribaltare un risultato con pieno merito e di imporsi. Sì, una grande vittoria perché giocavamo contro una squadra molto forte, temibile, soprattutto come si era messa la partita, per le loro caratteristiche era congeniale, però la squadra è stata brava, ha fatto una grande gara, bello per il nostro pubblico che è stato anche oggi molto importante per noi e poi avevamo un debito anche nei confronti del nostro Presidente di fargli un bel regalo di compleanno, sono contento perché è una persona straordinaria, è un Presidente che tutti i allenatori e i giocatori vorrebbero avere, perché siamo contenti che a fine partita sia stato orgoglioso di noi.